Intro Salve a tutti i Blazers e bentornati Oh mio dio ho rotto tutto nella serie di sopravvivenza Questo piccone è uber potente Cioè nel fare un saluto ho distrutto un blocco Mamma mia è potentissimo E proprio di questo piccone e degli altri attrezzi Ragazzi ci occuperemo nella puntata di oggi Perché come vedete i nostri poveri attrezzi si stanno esaurendo Me l'avete fatto notare Scrivendomelo logicamente nei commenti come sempre Mi avete detto più di una volta Eren occhio che ti stanno finendo gli attrezzi Ed è proprio così mi stanno finendo gli attrezzi Per cui in questa puntata dopo aver fatto il gate Quindi dopo aver accontentato i vostri desideri più riconditi Che ormai dimoravano in voi da mesi e mesi Cioè quelli di aggiustare sti cazzo di gate Vi ascolterò per l'ennesima volta E mi dedicherò ad aggiustare anche gli attrezzi O a rifarli nel caso Quanto servirà per aggiustare per esempio il nostro piccone Ricordiamoci abbiamo un piccone con un unbreaking 3 ed efficienza 4 Ed è un signor piccone lo abbiamo appena visto nell'intro Allora 16 Per fare poco poco proprio Se lo vogliamo quasi fullare 17 18 Ok E gli altri attrezzi come li faccio poi? Perché io ho tanti incantamenti da parte Bisogna vedere in mezzo a questa matassa di libri Quali sono quelli che meritano Abbiamo tipo unbreaking 3 Come vedete Vediamo se abbiamo un'efficienza 4 C'è volendo Visto Efficienza 2 Protezione Qui dovrebbero essere Efficienza 4 Power 4 Eh questo è un bel libro Efficienza 4 No vabbè ce li abbiamo volendo Potremmo anche Pensare di rifarli questi attrezzi Perché anche qui vedete Efficienza 4 Unbreaking 3 Efficienza 3 E non ho unbreaking Stranamente E la zammato Vabbè la zammato è un caso a sé È veramente potente la zammato Infatti Se io volessi riparare La mia Celebre spada Quanto dovrei spendere? Ma un fottio suppongo L'abbiamo già Usata e strausata Più di una volta Troppo costosa La zammato Non può essere riparata Dovremmo anche pensare Di farci una nuova spada E questo è veramente triste Per cui Prima di tutto Prima di tutto Se io volessi rifare I 3 Attrezzi Avrei bisogno Di 9 diamanti Più 2 diamanti Per fare Della spada Però abbiamo anche L'armatura Che sta Per esaurirsi In particolar modo I piedini Per cui Non ci farebbero schifo Altri diamanti Di sopra Ne ho un po' Vicino All'incudine Volendo Ma potremmo anche andare A recuperarne Qualcuno Nelle caverne Perché quelli di sopra Servono per Le riparazioni Quindi sono lì Messi da parte Facciamoci Un giro Magari in qualche caverna Che poi Io qua Ho altri due picconi Però è uno Uno è con silk touch E l'altro Che ci serve È con fortuna Quindi queste due Non si toccano E poi niente Allora se io mi prendessi però Dei bastoni Proviamo a fare Un'altra cosa Vale a dire Se io mi faccio Un piccone di diamante Eccoci qui E lo fondiamo a questo Perdo gli incantamenti Ok Chiarissimo Quindi non ho Altra scelta Se non Prendere questo qui Nuovo E Reincantarlo Da capo Se voglio un nuovo piccone A meno che Non intenda Spendere Per la riparazione Per cui noi A nuoto Ce ne andiamo Nella miniera nuova Tra l'altro ragazzi Mi avete fatto notare una cosa Mi avete detto Perché non hai messo Una leva qui Che resta aperto Lo so anch'io Che resta aperto Con le leve Però Vuoi mettere La comodità del pulsante La leva La devi attivare due volte Per aprire E per chiudere Il pulsante Lo attivi Passa e si chiude da solo E Ho lasciato il pulsante Solo per L'automatismo Per la comodità Tutto qui Comunque Sto raggiungendo La miniera nuova E Non ci andiamo Con il carrello Perché Non ci voglio sbattere Di fare tutto il giro Quindi ci andiamo A nuoto Eccoci qui Ci siamo Quasi L'ossigeno Basta proprio Pelo pelo Però noi ci siamo Eccoci nella nostra cupola Scendiamo in miniera E andiamo A cercarci Velocemente Altro diamante Vorrei almeno Altri quattro pezzi Di diamante In modo da rifarmi Anche i piedini Dell'armatura Almeno Per un po' Starei tranquillo Allora Noi avevamo scavato Da questa parte Non avevo fatto Diversi tunnel Ne avevo fatto Uno solo A quanto pare Ah perché c'era Una miniera Alla fine Mi conviene Molto di più Trovarmi Un luogo Ad altezza 12 Quindi scaviamo Di un blocco Ancora E metterci a scavare A caso Finché non troviamo Qualcosa Tipo qua c'è già Un'altra stanza Della miniera Laghi di lava Dai quali sono già passato Quanto pare Perché c'è dell'ossidiana Giusto Giusto signor creeper Minchia Ha shottato Shottato L'epicità Redstone Qua c'è ferro Qua c'è un creeper Vai via E là Quanti creeper ci sono Ragazzi La famiglia dei creeper Abbiamo trovato qua Vabbè T'ho lasciato Hai pure danneggiato Un enderman Ma come E vai ragazzi L'ho già trovato Non mi stavo neanche accorgendo E lo stavo distruggendo tutto Guardate L'ho trovato quasi subito Il diamante Perché il pozzo di lava È esattamente qua E a poca distanza Ho trovato Questo diamantino Il primo blocco L'ho già rotto Purtroppo Perché il piccone Andava fortissimo E ha distrutto tutto Allora Prendiamo Quindi Fortuna Ne abbiamo nove In questo momento Quindi uno L'ho recuperato Dal blocco Vediamo Quanti Ce ne droppa E minchia Festa grande Festa grande 18 18 diamanti Ragazzi Porca Eva Li ho raddoppiati Ok bene Siamo a posto Siamo a posto Anche Per questo Anno Siamo andati in miniera Vabbè Praticamente Con il tuo Piccone fortuna Trovi i diamanti Li tiri su E ne hai già un sacco Cioè Una figata assurda E mentre torniamo Noto che Ormai Il piccone È veramente Al limite Guardate Gli rimane Pochissima durabilità È diventato Rosso Qua scavando Quindi Torniamo su E pensiamo A farci degli attrezzi Nuovi Ora abbiamo anche Un bel po' di diamanti Quindi non ci sarà Il problema Di farsi calcoli Di quanti Ce ne servono Andiamo tranquilli Ci rifacciamo Tutto il set Di attrezzi Forse la spada E forse Anche i piedini Dell'armatura Sempre che Io abbia Gli incantamenti Giusti da parte Allora il piccone Con fortuna Lo molliamo qui Perfetto Questi qua Li lasciamo qui Sono tutti quanti Quasi esauriti Li possiamo tenere Da parte Comunque come Attrezzi di riserve Eventualmente E ci prendiamo Del legno Tipo Tipo Questo qui Per farci I bastoni Ovviamente Che useremo Per fare I nuovi Attrezzi Facciamone Un bel po' Già che ci siamo E prepariamoci Quindi Ascia E pala Ecco qui Più Forse una spada Forse perché In realtà Una spada Ci sarebbe già Ed è questa qui È leggermente Consumata Se volessimo fare i pignoli Ne facciamo una nuova Comunque pensiamo prima Agli attrezzi Pertanto per i miei nuovi attrezzi Voglio solo il meglio che abbiamo Quindi Unbreaking 3 O 4 E Efficienza 3 O 4 Dunque Ho trovato Molte Efficienze 4 Qua ne abbiamo Una Due E tre E già così È perfetto Mi mancano gli unbreaking Qua un unbreaking 3 Con knockback Qua ne ho un altro Me ne manca uno Allora Lapis Vanno qui Libro Knockback E vabbè Niente Protezione dai proiettili E rimangono gli stessi Ovviamente Quindi Non incantiamo nulla Per il momento Mi conviene andare a dormire E poi scendere un attimo Nella farm Di esperienza E raggiungere Un livello decente Qua la farm Funziona ancora Solo che Essendo appena arrivati Uh Ferro Attenzione Sendo appena arrivati Ce ne sono pochi Dovrò aspettare Che si accumulino Gli zombie Vediamo un po' Cosa ci esce Respirazione Caspita È figo però Respirazione 3 Feather Falling 4 Ci sta Però Non è quello che cercavamo Power Efficienza Smite Facciamo così Almeno ci restano I 30 livelli Abbiamo ancora un tentativo Power 4 Niente ragazzi Niente Unbreaking È strano però Gli unbreaking Di solito sono molto comuni Ma non ho avuto fortuna Va bene Allora possiamo fare Un'altra cosa Possiamo Rivedere un attimo Gli attrezzi Che abbiamo lasciato giù Abbiamo questo Che è efficienza Unbreaking 3 Ed efficienza 4 Unbreaking 3 ed efficienza 4 Dato che questo È l'oggetto Messo meglio Lo salviamo Questo lo mettiamo via Quindi questo sarà Il nostro set di riserva E nel caso Nel tempo Se avrò Un sacco Di esperienze In eccesso Potrò anche pensare Di ripararlo Per adesso Ci conviene In termini di esperienza Usare i libri Ci conviene Assolutamente Usare i libri Che ho messo da parte Quindi adesso Lasciamo giù queste cose Posso Semplicemente Decidere di salvare La pala In modo da Sfruttare comunque Un incantamento Unbreaking Che è già dentro La pala Quindi facciamo così Per fullarla Spendiamo 9 Due diamanti Direi che ci può stare Allora No Ho sbagliato Così Pala fullata Il piccone Quindi Gli mettiamo Efficienza 4 E li mettiamo Dove sta Unbreaking 3 Perfetto E vedete Ce la siamo cavata Con più o meno Pochi livelli Mentre riparare Del tutto Il piccone Ci costava Già 18 Quindi Non avremmo Finito Mettiamo L'ascia Ascia Efficienza 4 Non sarà Non sarà facile Allora Vediamo Knockback Abbiamo un 2 Qui Sì insomma Ci manca Sharpness 4 E looting 3 Poi per il resto Possiamo addirittura Farne una migliore Allora Allora Questi 3 Libri Io direi Di lasciarli Qui Da parte Per il momento Purtroppo L'ha zammato Nell'immediato Non la posso rifare Però Cercherò di Farmare Esperienza Per farmi I libri Nuovi E per poi Rifarmela L'arco Beh L'arco È una cosa Assurda Mentre Per i piedini Ragazzi I piedini Avevamo Solamente Feather Falling Il che Vuol dire Che Ne ho Uno qui Perfetto Ne ho uno qui Potrei anche Decidere Di rifarmi I piedini Quindi Prendiamo Ovviamente Con i pochi Con La poca Esperienza Che ho Ora Non potrò Mettere Il libro Mi sa Però Non ci costa nulla Iniziare A farlo E fare una prova Per vedere Quanto costa Ci costerebbe Quattro livelli Quindi Per adesso Non li ho Li potrei fare In un battibaleno Però a ripensarci Ragazzi La nostra Armatura Non è sto granché Guardate Abbiamo solamente Protezione E I danni da caduta Qui Potrei fare Molto di più Potremmo pensare Di farci Una nuova armatura Con un sacco Di Incantamenti In più Anche se Molti Non sono compatibili Quindi va un attimo Studiata Eventualmente Mi faccio Sti Otto livelli Penso E facciamo subito I piedini Così ci togliamo Il pensiero Uno E Due Eccoci qui Piedini Rifatti Sono più potenti Di prima Li mettiamo Al posto Di questi E anche i piedini Sappiamo che Per un bel po' Non si romperanno Dunque Ci siamo Rifatti Il set Di attrezzi L'armatura Ora in ottime Condizioni I pezzi Diciamo Chestplate Eccetera Eccetera Sono ancora Molto buoni Più che altro Erano i piedini Il problema Che assorbendo I danni da caduta Si erano molto Consumati Ci mancherebbe Solo la spada La spada è un po' Più complicata Da rifare Per il resto Direi che siamo A posto Per un sacco Di tempo Gli oggetti Che ho messo da parte Ovviamente Non andranno Buttati Ragazzi Rimangono lì Come oggetti Di riserva Li possiamo utilizzare Magari per Non so Il piccone Per scavare Il pietrisco Se proprio Non vogliamo Sprecare questo Oppure nel tempo Li andrò A riparare Per averli Sempre lì Pronti In caso di Bisogno Diciamo così Abbiamo usato Questi diamanti In maniera Molto saggia Secondo me Quindi D'ora in poi Avremo dei super Attrezzi Con durabilità Piena Detto ciò ragazzi Io vi saluto Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Un commento Condividete E ci vediamo domani Con un nuovo video Oppure dopo Alle 17 Con il video Delle 17 Un saluto Da Aaron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti